perfetta per colazione o per merenda la ciambella senza uova allo yogurt è profumata al limone morbidissima e soprattutto buona buona metti lo yogurt greco all'interno di una ciotola aggiungi poi il latte e l'olio di semi lavora con la frusta a mano e aggiungi poco per volta lo zucchero devi ottenere una crema omogenea aggiungi poi la farina 00 setacciata e l'amido di mais termina con il lievito per torte la scorza grattugiata di un limone bio ben lavata e con il succo filtrato mescola fino ad avere un composto omogeneo imburra uno stampo per ciambelle questo al diametro di 24 cm e versa il composto sbattilo leggermente per eliminare eventuali bolle e metti in forno a 180 gradi statico per 40-45 minuti e voilà giusto l'amido di un sbattilo di un bel